ciao a tutti oggi nuova recensione e oggi in effetti faccio una recensione che è necessaria non per forza al canale perché si tratta come già avete capito di un mazzo non nuovissimo pensi una recensione necessaria a me perché avendo acquistato questo mazzo i tarocchi dell'armonia un po di tempo fa su ebay usati ho necessità di mostrarveli perché intendo poi modificarli quindi ci tenevo a fare la recensione prima perché mi è già capitato ultimamente di acquistare un mazzo modificarlo senza aver prima girato la recensione e mi è dispiaciuto non poterlo mostrare prima non ci ho pensato onestamente quindi stavolta per non ripetere l'errore vado a girare prima la recensione e poi mi accingerò a modificarlo per motivi che vedremo fra pochissimo come dicevo e come vedete si tratta dei tarocchi dell'armonia conosciuti a livello internazionale come harmonio stereo come vedete è un mazzo dello scarabeo quindi pubblicato in più lingue e gli artisti che l'hanno creato si chiamano Walter Crane e Ernest Fitzpatrick che dire di questo mazzo intanto io ho acquistato una versione usata come dicevo ed è una di quelle che venivano distribuite in edicola con quelle uscite settimanali o bisettimanali di qualche anno fa però esiste anche una versione diciamo più ufficiale dello scarabeo con la sua confezione più personalizzata e che include anche le istruzioni in questo caso io non le ho quindi su quella parte del prodotto non posso pronunciarmi quindi diciamo che volendo fare una crudele supposizione posso immaginare che sia come tutti i libretti vecchi dello scarabeo quindi sicuramente in lingue multiple sicuramente con significati e informazioni molto strinzite quindi non necessariamente una cosa che vada ad aggiungere molto al prodotto questo ripeto è una mia supposizione però se conosco un pochino come ritengo di conoscere i classici mazzi dello scarabeo penso che debba essere così più o meno non so se poi è stata fatta qualche versione più aggiornata con un libretto degno di questo nome ma questo magari lo lascio dire a voi se ce l'avete quindi nei commenti fatemi sapere se magari il libretto in una qualsiasi sua versione è degno di essere chiamato tale detto questo adesso guardiamo semplicemente quello che abbiamo qua comunque che è il mazzo ovviamente sulla scatolina poco da dire anche qui perché è una classica scatolina di cartone come quelle classiche dello scarabeo ricordo che queste qua che arrivano in edicola arrivavano piatte e andavano poi piegate e montate o anche incollate a volte però queste qua diciamo per quanto non siano il massimo per quanto siano fragiline possono sicuramente durare se tenute come si deve con cura infatti questa qua pur essendo usata devo dire era perfettamente conservata in ottimo stato quindi niente di che insomma per come tratto io i mazzi queste sono scatole che possono durare perché io sono abbastanza delicato con le scatole né se qualcuno magari un po più rozzo e crudo nel maneggiare le scatole queste qua possono effettivamente durare molto poco quindi magari necessario poi un sacchetto una scatola a parte detto questo togliamo anche la scatola e ci dedichiamo a guardare il mazzo in se stesso ovviamente poiché parliamo di un mazzo classico vecchio dello scarabeo lo spessore un po quello che è è più suo sottile decisamente quindi il cartoncino ovviamente è proprio il massimo è come quelli la classici dello scarabeo che a me personalmente poi non è che dispiaccia perché è molto sottile molto molto pieghevole però va detto che permette di mescolare molto bene il mazzo nel mio caso essendo il mazzo usato non so se si vede alcune carte sono già un po piegate fino agli arcani maggiori credo che ci sia questo mucchietto piegato in modo che crea questo piccolo spazietto qui anche un po in questa parte dei minori quindi è quel tipo di mazzo che si può deformare un po se non è tenuto alla perfezione però devo dire che a parte questo queste carte quasi in ottime condizioni non ci sono strappi non ci sono macchie quindi è un mazzo che è stato tenuto discretamente e penso usato poco in realtà poi vediamo un po per quanto riguarda il materiale c'è da dire anche pochi non sono eccessivamente lucide lo scarabeo con i suoi mazzi vecchi non aveva un cartoncino molto molto lucido questo qua riflette un la luce ma considerate che io sto usando il flash adesso perché sto girando purtroppo è pomeriggio ma il sole qui sta cominciando a calare quindi non era opportuno usare la luce solare e quindi dicevo la luce del flash si riflette molto però a parte questo non è che siano laminati come lo scarabeo sta facendo ultimamente questo invece il retro delle carte che è perfettamente reversibile anche se lo resterà per poco perché come dicevo io intendo modificare questo mazzo e intendo modificarlo perché adesso andiamo a guardare il fronte delle carte che è questo qua aspettate che magari ci avviciniamo un po così limitiamo anche se possibile i riflessi ecco penso che qui si vedano meglio ecco qua come dicevo il fronte delle carte io intendo modificarlo perché abbiamo ovviamente la cornice bianca il nome della carta in più di una lingua ben sei quindi onestamente tutto questo comprime le immagini mortifica un po i colori e con questi bei disegni è davvero un peccato quindi io penso che taglierò via tutto lascerò solamente l'immagine a partire da questa cornice che fra l'altro già la cornice interna è bella doppia quindi andare oltre mi sembra veramente eccessivo però almeno il bordo bianco lo vorrei rimuovere e quindi il mazzo poi sarà quasi mini pur sparendo i nomi pur sparendo i numeri rimarrà comunque utilizzabile perché questo mazzo segue molto lo stile rider weight in effetti è quasi un clone anche se bisogna dire che lo stile grafico in sé stesso è molto diverso o meglio è diverso proprio per un aspetto visivo però a livello temporale penso che lo stile si rifaccia un po al periodo dei rider weight perché uno stile liberty potremmo dire vorrei usare a sproposito il termine però penso che sia la cosa più simile che si possa dire quindi più o meno come periodo siamo un po lì anche se ovviamente il tratto è diverso perché comunque parliamo di due artisti diversi sicuramente approfitto anche visto che ho qui una carta rider weight per vedere le dimensioni ovviamente sono simili la stessa altezza e i rider weight che è la misura standard per eccellenza sono un po più larghi a parte questo però sono quasi simili quasi uguali ecco e non la confronto con una carta moderna dello scarabbeo perché sono anche quelle dimensioni uguale rider weight quindi comunque siamo lì detto questo sono già sette minuti che chiacchieriamo io direi di guardare finalmente le carte una per una partendo dal matto che come vedete ha uno schema molto simile ai rider weight comunque siamo fra le montagne c'è il cane c'è il nostro matto che va incontro al burrone quindi è davvero molto molto simile poi abbiamo il mago non è solo questa è una cosa interessante però gli elementi tipici ci sono tutti i quattro semi che rappresentano gli elementi il segno dell'infinito quindi c'è quello che serve insomma in ogni illustrazione anche per questo i nomi sono un po superflui in questo mazzo forse poi abbiamo la papessa o sacerdotessa con questo aspetto molto vegetale che è interessante però anche qui abbiamo comunque gli elementi classici abbiamo la tora o tora le due colonne abbiamo la luna quindi il grosso l'importante è tutto lì e non mi ripeterò per ogni carta perché potremmo farlo ma sarebbe molto noioso quindi passiamo all'imperatrice poi all'imperatore quindi abbiamo il papa o gerofante dopodiché i diamanti qui viene ripreso l'angelo nell'esatta posa dei rider weight quindi anche qui si capisce molto che l'ispirazione chiara poi abbiamo il carro poi la giustizia al numero 8 quindi la numerazione in questo caso segue invece il tarocco di marsiglia però le immagini come vedete richiamano molto di più il rider weight almeno secondo me questo è l'eremita poi abbiamo la ruota credo che sia una delle carte più famose di questo mazzo perché la si vede molto spesso online poi la forza numero 11 poi l'appeso quindi la morte molto carina perché non è sola qui abbiamo anche un giullare potremmo di una specie di arlecchino che sembra quasi farsi beffe della morte poi la temperanza il diavolo anche questa si prende un po di libertà rispetto all'illustrazione classica il che è interessante la torre in cui non vediamo veramente la torre ma vediamo comunque il personaggio che cade insieme a tutti i pezzi della torre e altre cose poi abbiamo la stella poi la luna il sole molto bella questa poi il giudizio altrettanto bella devo dire e poi il mondo più sul classico andiamo qui e notate ma sicuramente l'avete già notati i colori i colori sono molto tenui qui abbiamo dei tratti delicatissimi dei colori quasi pastello oserei dire fosse appena appena più intensi ma diventeranno molto più intensi questi una volta che avrò tagliato il mazzo quindi ci tengo veramente a fare questa modifica perché fra l'altro è un mazzo che intendo usare durante la primavera io sto registrando adesso che è febbraio voi sicuramente vedrete il video molto più in là però poiché ha questi colori queste atmosfere comunque molto idillia che in se stesso questo mazzo penso che sia molto adatto per essere usato in primavera comunque detto questo adesso passiamo alla sala all'asso di bastoni si prevedere il primo dei quattro semi poi al 2 poi il 3 e in questo caso vedete abbiamo ovviamente dei semi scenici che riprendono molto le scene di rider weight come già detto questo è il 5 di bastoni poi abbiamo il 6 poi il 7 magari non sono riprese tutte quante alla lettera le scene però è anche giusto che non sia completamente un clone altrimenti sarebbe un po' noioso forse come mazzo questo è il 8 di bastoni poi il 9 e il 10 dopo di che si passa alle carte di corte che sono sono titolate in stile classico quindi abbiamo il fante poi il cavaliere poi la regina e poi il re quindi procedendo abbiamo il semi di coppe questo è il lasso poi abbiamo il 2 di coppe anche questo è un elemento che si vede proprio uguale possiamo dire nei rider weight quindi qua e la alcune carte sono molto 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 influenzate da quel sistema qui abbiamo il 3 poi il 4 poi il 5 che potrebbe sembrare un 2 ma le altre 3 coppe sono qua quindi sono sceniche le carte però conservano sempre il loro elemento numerico nell'illustrazione quindi anche per questo penso che si possa modificare tranquillamente questo mazzo poi abbiamo il 6 di coppe quindi il 7 anche qui gli elementi sono quelli classici ho detto che non mi sarei ripetuto però lo sto facendo un po' poi abbiamo l'8 poi il 9 e poi il 10 di coppe dopo di che il fante di coppe il cavaliere la regina e il re forse ecco le carte di corte sono un pochino più non voglio dire diverse però comunque sono meno clonate se vogliamo ecco passiamo quindi al semi di spade con l'asso poi il 2 poi il 3 poi il 4 il 5 il 6 poi il 7 l'8 poi il 9 e il 10 quindi per le carte di corte anche qui abbiamo ovviamente il fante poi il cavaliere la regina e il re che mi ricorda un po' il ricottavo sinceramente poi abbiamo infine l'ultimo seme quello di danari questo è l'asso poi abbiamo il 2 poi il 3 poi il 3 il 4 poi il 5 il 6 il 7 poi l'8 il 9 il 10 e poi abbiamo il fante di danari il cavaliere poi la regina e per finire tutto il mazzo il re quindi siamo andati super di corsa perché in effetti non c'era tantissimo da dire su come sono illustrate queste carte anche in termini di simbologia sono piuttosto semplici perché lo ripetiamo per l'ennesima volta seguono in maniera molto molto fedele anche se non come un clone le carte Rider-Waite quindi chiunque sia a suo agio con quel tipo di mazzo può leggere questo praticamente all'istante senza nemmeno leggere le eventuali istruzioni o lavorarci troppo diciamo quindi è un quasi clone possiamo dire però ha di suo che è disegnato in modo molto particolare sicuramente sembrano effettivamente disegni di più di un secolo fa quasi usciti da un libro di fiabe o da una rivista per bambini dell'epoca quindi è molto gradevole è molto delicato rispetta in pieno il nome tra l'occhi dell'armonia perché effettivamente anche le carte peggiori tipo non so ecco il diavolo è difficile trovarle inquietanti queste qua perfino una torre ecco perfino carte più cruente come potrebbe essere non so il 10 di spade sì magari rappresentano una morte però lo fanno comunque in maniera non eccessivamente sanguinolenta quindi sono carte che hanno qualcosa di molto delicato molto dolce potremmo dire ecco per quanto possono esserlo alcuni archetipi quindi magari ecco rispetto alla crudezza che a volte hanno le carte Rider Waite queste qua possono essere un po' più delicate secondo me appunto adatte anche in termini temporali ad essere usate in primavera almeno questa è un po' la mia impressione quindi adesso penso che resti solamente da vedere come si mescolano e neanche ve lo dico ma diciamo lo stesso essendo un classico mazzo dello scanabbeo queste qua sono piuttosto flessibili oltre che sottili quindi sicuramente verrà un buon riffle shuffle adesso vediamo effettivamente viene in maniera eccellente quindi si mescolano molto molto bene con questo sistema adesso facciamo solo un altro giro o magari due perché no giusto per mescolarle ancora meglio e perché è molto piacevole ecco dopodiché diamo un'occhiata anche al mescolamento da una mano all'altra e anche così vanno abbastanza bene queste qui non sono nominate quindi non hanno quel senso di appiccicaticcio che a volte si può trovare scivolano piuttosto bene ora teniamo presente che questo mazzo è usato e quindi un pochino si è già diciamo sgranchito forse non so perché onestamente non ho chiesto alla persona se quanto lo avesse usato diciamo che non è nuovo però ecco magari un mazzo nuovo potrebbe fare appena appena un po' di resistenza in più ma questi sono mazzi che si ammorbidiscono istantaneamente possiamo dire quindi perfettamente utilizzabili da subito ora che sono piuttosto mescolate credo diamo un'occhiata a come si presentano ora purtroppo a causa del flash e della luce dall'alto alcune carte saranno più in ombra alcune magari soffriranno un po' per via dei riflessi però possiamo tranquillamente mettere 6 carte per fila potrebbe anche metterne 6 forse però non voglio affollare troppo va detto proprio per onestà che queste qua hanno uno stile un po' diciamo caotico nel senso che sono molto dettagliati ci sono molti elementi il tratto è molto intricato quindi con queste non è necessariamente consigliabile secondo me una stesa così grossa per esempio adesso io ve le faccio vedere il più possibile però penso che queste qua si prestino più a delle stese piccole soltanto perché appunto lo stile è molto intricato quindi c'è il rischio che facciano incrociare un po' gli occhi se mettiamo troppe carte e nel mio caso lo sarà ancora di più quando toglierò le cornici perché è vero che ci saranno meno elementi a distrarmi però è vero pure che tutto risalterà anche quindi questo stile molto intricato e ricco quindi ecco è qualcosa da tenere a mente questo come sempre quando capitano mazzi del genere questo stile è un po' intricato il mio consiglio è di fare appunto le stese più piccole magari solo 3 o 4 carte e assumono tutto un altro aspetto sicuramente sono molto più leggibili ci si può immergere un po' di più nell'illustrazione quindi si possono carpire meglio poi anche i messaggi troppe carte con questo stile tendono un po' a sovrastare l'attenzione e la capacità di avere un colpo d'occhio ecco perché si possono confondere un po' le cose qui l'unica cosa che aiuta un po' se lasciamo il mazzo intatto è che per gli arcani maggiori abbiamo il numero romano e per i minori il numero arabo però a parte questo bisogna poi guardare bene l'illustrazione per avere un colpo d'occhio che però non sarà immediato visto proprio lo stile così dettagliato quindi detto questo adesso chiuderei la recensione velocissima perché non ho tantissimo tempo e ripeto non l'ho fatta più per dovere quasi perché questo qua penso che fra pochissimo verrà tagliato e non volevo appunto farlo senza prima condividere con voi le mie impressioni e le mie impressioni definitive sono che questo è un mazzo consigliabile a chi sta cominciando perché è un mazzo molto molto simile al tarocco rider come ho già detto quindi conserva tutto quello che un tarocco rider può dire in termini di di basi proprio di significato delle carte perché sono veramente poche le differenze in base a quello che traspare dalle illustrazioni sicuramente non hanno tutto quel bagaglio diciamo di simbologia esoterica che è tipico di un rider quindi se si vuole fare uno studio approfondito dei tarocchi a livello esoterico è chiaro che bisogna utilizzare un rider oppure un altro tarocco come i tarocchi di Tot però se si vuole qualcosa di simile senza addentrarsi per forza in tutto quello studio lì questo può essere un mazzo buono quantomeno per cominciare per familiarizzare col concetto di arcane minoriscenici per esempio e quant'altro consigliato a chi di collezione se ancora non ce l'ha perché questo è un mazzo che si può trovare a prezzi abbrodabilissimi sempre intorno ai 15-20 euro oltre non andrei sicuramente perché comunque parliamo di un vecchio mazzo dello scarabbeo quindi nulla di particolarmente pregiato da quel punto di vista a chi lo sconsiglio a chi vuole qualcosa di molto molto forte e duro psicologico oscuro anche perché questo mazzo è essenzialmente l'opposto quindi questo è consigliabile invece a chi vuole l'armonia come dice il nome la dolcezza la pace la tranquillità perché questo è ciò che comunicano queste immagini quindi è sicuramente consigliato invece a chi vuole qualcosa di il tipico mazzo che dice le cose che deve dire però lo fa in maniera molto delicata e dolce quindi questo è un po' il mio consiglio e su queste note adesso vorrei chiudere fatemi sapere come sempre le vostre opinioni nei commenti se avete questo mazzo se vi piace se lo vorreste se ce l'avete magari non vi piace vorrei sapere perché quale sono state le vostre eventuali esperienze con esso fatemi sapere come dicevo all'inizio se avete il libretto che tipo di libretto è e se vale la pena leggerlo utilizzarlo e quindi insomma parliamone un po' poi vi ricordo solamente per concludere che come sempre nell'info box vi lascerò oltre ai link per cercare questo mazzo su Amazon e Book Depository vi lascerò come sempre anche la mia Amazon Wishlist se volete contribuire al canale acquistando un mazzo che poi mi sarà inviato e potrò recensire vi lascio anche il mio link a PayPal se volete contribuire offrendo un caffè per sostenermi il canale e poi anche i miei contatti di Facebook e Instagram se invece volete scrivermi privatamente per un consulto detto questo adesso io concludo veramente il video vi ringrazio di essere stati con me e vi do appuntamento spero presto con un altro video ciao ciao